Non va bene, non va bene quello che stiamo facendo. Ognuno deve stare attento alle regole. Io capisco che sabato e domenica saranno 20 gradi, difficile stare in casa, però non va bene perché ci troviamo a chiudere tutto. La salute è più importante di qualsiasi altra cosa, per cui io mi rivolgo ai miei concittadini. Fate attenzione, distanze di sicurezza, distanze di sicurezza, igiene. Io ho capito che è bello prendere l'aperitivo, è bello salvicini, è bello tutto, però così non possiamo continuare. Cioè troviamo il rischio di stare tutti a casa, attività economiche chiuse, pandemia totale per quanto riguarda gli ospedali, siamo in zona critica. Per cui vi chiedo, per favore, per favore, stiamo attenti, basta con questa situazione.